La terza orelle, l'invito di questa domenica, quarta domenica di quaresima, è la famosa domenica delle tare. Rallegratevi, voi che abitate in Gerusalemme, voi uomini e donne di buona volontà, che aspettate la redenzione, un'opera di salvezza che Gesù è venuto a donarci e con il Vangelo di Giovanni, siamo a capitolo terzo, ci viene ricordato che Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. C'è questa allora certezza, questa luce, questa speranza, questo lievito che fa fermentare la certezza che Gesù, tutto quello che ha creato, tutto quello che Gesù ha manifestato della volontà creatrice e redentiva di Dio è per il bene, per la salvezza, per la giustizia, per la bellezza che risplende in ogni sua dimensione. Cosa significa allora questo Rallegratevi? Non è una gioia a basso costo, una scorciatoria per arrivare alla felicità e al successo, ma è un lasciarsi salvare dal Signore, così come Lui vuole, alla sua maniera. Come allora Mosè, scusate, come Nicodemo aveva innalzato il serpente nel deserto come segno di salvezza e per gli ebrei che venivano morsi dai serpenti, così Gesù è l'albero della salvezza, il trono, il talamo, l'altare attraverso il quale Dio salva, attraverso l'amore al suo figlio, l'umanità intera. A questa croce dobbiamo guardare. Guardare Gesù significa avvolgere la vita, l'intelligenza, il cuore, il futuro e lasciarsi toccare dalla sua grazia, perché la croce, sappiamoci, manifesta questa volontà di salvezza da parte del Signore e questa dedizione di Gesù all'opera del Padre, ma anche questa benevolenza verso i credenti che divendono attraverso la croce, divendono ecco fratelli. Questa allora adesione spontanea, libera, perché siamo invitati, chiamati. Allora questa salvezza dipende da noi. Se noi ascoltiamo questa parola, non significa avere il paraocchi, significa credere che Gesù è la verità, la via, la verità e la vita che ci rivela e ci mette in condizione del Padre, allora si realizzeranno le parole di Simeone. Gesù è pietra d'inciampo, pietra di salvezza e, nella stessa momento, Gesù ecco non divide, ma associa. Gesù non separa, raccoglie l'umanità nel segno della fraternità, di quanto il Papa ha richiamato anche nella recente visita in Iraq, che ha, ecco, ci ha illuminati in un modo diverso di vedere la realtà. È possibile dialogare con l'Islam. L'Islam non sono tutti terroristi. Guai chi uccide in nome di Dio, commette un sacrilegio. Questo atteggiamento di ascolta, allora, da che cosa nasce? Non da buoni sentimenti, né dai soci. Il libro delle seconde, prima lettura, seconda cronica 36, ci ricorda che l'ira di Dio e la misericordia si sono manifestati nell'opera della redenzione di Israele. Attenzione, da una parte ecco il Signore che con sollecitudine, con benevolenza, mandava i profeti, i segni, ma, ci dice il libro, si affarono dai messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole, schernirono i loro profeti. Anche oggi il Signore manda i Suoi profeti, Giorgio Lapira, Livatino, Don Tonino Bello, Bachelet, Don Pinopulchisi. I profeti sono in mezzo a noi, basta lasciarsi illuminare dalla loro testimonianza, senza avere alcuna pretesa, come diceva il nostro confratello Dalmazio Mongillo. Non è il mondo che deve diventare Chiesa, è la Chiesa che deve diventare mondo. Siamo noi cristiani che dobbiamo diventare mondo e allora potremmo dire a tutti, rallegratevi, gioite nel Signore, la vostra salvezza è vicina. Grazie a tutti.